bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti nel video di oggi parleremo di una scoperta davvero super interessante che farebbe un pochettino chiarezza su tutto quello che dovremmo aspettarci dall'arrivo del galactus che è oramai prossimo vi ricordo che questa settimana finalmente dovrebbe esserci la patch 14.60 l'ultima della season che poi ci porterà alla stagione numero 5 parleremo però anche di una roba fake che sta girando in giro e di tante altre curiosità prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta appunto di una teoria molto interessante riguardante gli eventi che stanno per accadere e nello specifico il galactus come sapete ragazzi in mappa sono presenti tre bunker il bunker arrivato nella stagione 4 del capitolo 1 è uno dei grandi misteri di fortnite c'è sempre stato non si è mai aperto non ci si è mai potuti entrare ma in ogni stagione ne troviamo qualcuno addirittura tra capitoli e capitoli come vedete ragazzi il primo è nell'isoletta in alto a nord il secondo è tutto a destra dove c'era una volta la grotta dove c'è ancora ma non è aperta e quell'altro invece è tutto a sinistra ma praticamente parallelo beh hanno scoperto che tracciando tutti e tra i punti si vede ovviamente un triangolo che se lo zoomiamo ci indica più o meno rapide rischiose rapide rischiose non è nuova a dei a della serie degli eventi ad esempio ha subito tante modifiche e anche quando fortnite ha fatto delle collaborazioni l'hanno utilizzata ad esempio per proiettare delle cose beh ma la coincidenza davvero interessante è che se noi andiamo nella lobby di gioco nella pre lobby dove ci sono tutti gli eroi e zoomiamo sull'ologramma che è presente sopra il tavolo della mappa vediamo effettivamente ve lo faccio vedere un pochettino meglio che c'è la freccia che indica una x bella bella evidente e quella x ragazzi a me sembra proprio rapide rischiose quindi potrebbe essere quello il punto di atterraggio del galactus che probabilmente arriverà in qualche modo dato che in cielo è sparito alcuni dicono da qualche ora che sia tornato visibile non come prima però io non ho ancora aperto il gioco ma siamo rimasti al mini evento di sabato alle 13 che appunto ha fatto sparire definitivamente il galactus c'è un'altra bella teoria però che secondo me non è così sbagliato da pensare non è che quando e se arriverà il galactus in mappa per caso in qualche modo verrà richiamato il mecca ve lo ricordate ragazzi nell'evento della stagione 9 quando c'è stato il cactus contro il che lui poi alla fine ha pigliato e se ne è andato nel cielo e come dimensioni secondo me ci siamo rispetto al galactus potrebbe essere un grande ritorno sono ovviamente solo supposizioni vi faccio però vedere le ultime immagini interessanti relative al galactus e davvero sorprendenti perché questo è il galactus ripreso durante il fort nightmares quindi guardate la distanza rispetto all'autobus e questo invece è il galactus poco prima che sparisse davvero micidiale la dimensione e l'avvicinarsi del galactus che appunto stiamo per aspettare speriamo non faccia troppo casino per cercare appunto di contrastarlo in quello che è il nexus war ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sono più che altro curiosità gli squali ragazzi li abbiamo visti tantissimo nelle precedenti stagioni dove la mappa era sommersa hanno avuto un ruolo molto importante più che altro di fastidio poi li possiamo cavalcare e quant'altro ma tornano perché c'è una curiosità che è bene che sappiate non esiste un solo modo per ottenere l'rpg in game come sapete lo otteniamo adesso dai dai galactus che non si chiamano galactus dagli ingordi ecco se volessimo essere precisi però sembrerebbe che da qualche ora abbiano inserito la possibilità di trovare un rpg epico uccidendo gli squali epici ovviamente quindi se vi capita provateci magari siete fortunati si potrebbe magari avere un po' di di fortuna per recuperare un rpg e qualche colpo che sicuramente male non fa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono ancora due skin per le armi due coperture che non sono state rese pubbliche nonostante appunto la patch 14.60 sia oramai imminente la prima è questa non mi ricordo il nome assolutamente e la seconda è questa che sappiamo invece essere animata entrambe sono davvero molto carine devo dire che le skin le coperture delle armi che stanno facendo in questo periodo mi piacciono davvero tanto e anche questo queste spero che arriveranno presto in game per poterle inserire ovviamente insieme alle altre andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi perché potreste trovare qualche video in giro su youtube qualche post in giro dappertutto che dicono c'è il nuovo bundle abbiamo trovato le immagini 600 v bucks starter pack della stagione numero 5 no ragazzi no queste immagini sono completamente fake quindi non crediate a quello che viene detto se ci fosse qualcuno che produce dei video comunque vi dice che questo sarà il nuovo starter pack o un nuovo bundle perché è tutto smentito sta girando questa immagine vi metto in guardia perché ragazzi è tutta roba finta e arriviamo all'ultimo argomento di oggi due secondi vi li rubo ancora perché mida in realtà ha sempre questo ruolo più o meno nel side story di fortnite e forse non ve ne siete accorti ma se andate nelle rovine qua vi faccio partire lo spezzone potrete sentire dei suoni molto molto particolari e alcuni dicono addirittura che si senta la voce di mida a voi ascoltare la clip insomma ragazzi davvero davvero particolare io per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao ciao